Martedì 19 marzo 2019 va in onda il secondo appuntamento del parterre senior di U.E.D Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi Stando alle anticipazioni diffuse in rete, oggi i telespettatori assisteranno al secondo appuntamento del trono in bar Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti gli spoiler.Uomini e Donne, Ida vuole riprovarci con Riccardo Le anticipazioni del trono over di Uomini e Donne virgola svelano che dopo l'uscita di Davide Cristina, al centro dello studio si accomoderà Riccardo, e insieme a lui una nuova dama coi capelli corti A quanto pare i due si stanno frequentando, hanno iniziato da pochi giorni la conoscenza e fino ad ora sembra che non ci siano problemi Mentre si discuterà di questa situazione, Ida prenderà la parola parlando con Maria De Filippi La donna dirà alla conduttrice di essere ancora innamorata persa di Riccardo e che quindi preferiva andarsene perché non riusciva a vederlo conoscere altre signore Secondo gli spoiler di Uedì, Queen Mary consiglierà alla Platano di non andare via Quindi inviterà lei e Riccardo a parlare per poter trovare un punto d'incontro Il cavaliere, però, dirà di non essere più innamorato di lei e di essere infastidito dai suoi continui attacchi Uomini e donne Barbara e Roberto si lasciano.Gli spoiler del parterre senior di Uomini e Donne, rivelano che Ida cercherà di mitigare la situazione, e di convincere Riccardo a tornare insieme, ma lui rimarrà fermo sulla sua decisione Alla fine, comunque, si stabilirà un buon rapporto, infatti rideranno e balleranno insieme Dopo un po', spariranno anche dallo studio.E la dama, infatti, non starà bene per il rifiuto ricevuto e lui la seguirà fuori Subito dopo il cavaliere rientrerà da solo, ma non si sa cosa è successo tra loro Infine si parlerà, anche di Barbara e Roberto.Purtroppo le cose tra loro non sono andate bene Lei lo accuserà di non provare le stesse cose che lei prova nei suoi confronti. Così lui alla fine sceglierà di andare via e la storia tra loro è finita